Buongiorno a tutti da Scena, sopra Merano, in provincia di Bolzano. Oggi siamo in compagnia di Franz Walder, che è proprietario dell'omonimo hotel, proprio qui a Scena, Hotel Walder. Buongiorno Franz, ciao. Buongiorno Roberto. Allora, questa estate è iniziata da circa due mesi, no? Esatto. Come sta andando? Per il momento sta andando benissimo, siamo molto contenti, abbiamo l'albergo pieno, e abbiamo iniziato a giugno e quindi andremo avanti fino a novembre, fino inizi di novembre, fino a tutti i Santi, dove poi la maggior parte degli alberghi sta per chiudere la stagione. Benissimo, fino a novembre, per cui i mesi ideali per poter venire qua a soggiornare sono anche settembre, ottobre e novembre, soprattutto perché ci sono le belle giornate e non fa troppo caldo, ecco, ideale per fare escursioni. Dove si possono fare queste escursioni? Ecco, noi abbiamo un lungo chilometraggio di sentieri, tipo lungo l'acqua, i sentieri itinerari lungo l'acqua, poi abbiamo le vie alte su 1.500-2.000 metri, ma anche in pianura non mancano, quindi abbiamo delle passeggiate tranquille e serene e molto belle da fare. Chi sono i vostri ospiti e da dove arrivano soprattutto? Allora, una gran parte arriva dalla Germania, abbiamo tedeschi circa un 60% e il resto sono italiani. Sono italiani che vengono soprattutto nel periodo di agosto, immagino? Sì, l'ospite italiano viene soprattutto a luglio-agosto, però abbiamo anche clienti che vengono per esempio a Pasqua e in altri periodi. Quali sono le novità di quest'anno all'Hotel Valder? Allora, come negli ultimi due o tre anni precedenti, abbiamo anche quest'anno le bici a noleggio, sono le bici elettriche che vanno molto bene sulle zone qua, sia in montagna ma anche in pianura, quindi abbiamo per esempio la Valpa Siria, la Val Venosta, dove si possono usare queste bici a noleggio, quindi è un costo molto basso, quindi vanno molto bene anche per i bambini. Vogliamo dare il sito internet e l'indirizzo per poter contattare e eventualmente poter fare una prenotazione? Sì, allora l'indirizzo internet www.hotelvalder.com e l'email info-hotelvalder.com Benissimo, allora ringraziamo Franz di averci dedicato questi minuti di intervista. Grazie a voi e grazie per la fiducia. Arrivederci.